C'è il sospetto che alcuni falsi di Modigliani siano esposti a Genova. Un esperto d'arte avanza dubbi sull'autenticità di 13 opere esposte al Palazzo Ducale. La procura apre un'inchiesta. I servizi sono di Marco Bezmalinovic e Tommaso Ricci. Almeno 13 dipinti esposti al Palazzo Ducale di Genova sarebbero falsi. A dirlo, mettendo questa affermazione nero su bianco, è Carlo Pepi, uno dei massimi esperti nonché collezionista di Amedeo Modigliani. Oltre alle 13 opere dubbie, secondo il critico ce ne sarebbero altre tre attribuite erroneamente a Modigliani. Pepi ha presentato un esposto in procura, violazione del codice dei beni culturali e paesaggistici, il reato ipotizzato. Gli organizzatori della mostra però non ci stanno. Tutte le opere, spiegano, sono già state presenti in grandi mostre presso prestigiose istituzioni, ciascuna ha una propria fitta scheda di catalogo con una propria bibliografia. Quindi nessun falso, dicono massima collaborazione con la magistratura, ma per tutelare l'immagine della mostra, che in poco più di tre mesi ha registrato 70.000 visitatori, annunciano azioni giudiziarie. Da Palazzo Ducale a Palazzo di Giustizia, l'arte a Genova cambia momentaneamente casa e sceglie il colore giallo per questo appassionante caso. Sono 13 le opere in mostra a Genova finite sotto l'occhio del collezionista ed esperto livornese, Diamedeo Modigliani, Carlo Pepi, che ne avrebbe smascherato alla falsa identità. Eccole dalla cariatide rossa agli sposi, alle tre nature morte, al ritratto di Maria, a questo nudo disteso, ed altre opere provenienti da collezioni private, che Pepi definisce porcherie. L'eccentrico e raffinato bohemian Amedeo Modigliani gode, ahimè, insieme con tanti altri, della nomea di pittori facilmente replicabile. Ma questo, nell'epoca della riproducibilità tecnica dell'arte, è uno stigma molto labile. Toccherà perciò alle indagini tracciare la linea tra falso e vero. Una linea che proprio attorno a Modigliani si era già imbrogliata 33 anni fa a Livorno, quando tre studenti burloni, sapendo che si dragava il fosso reale alla ricerca di opere dell'artista, confezionarono tre teste scolpite, facendo prima abboccare e poi arrossire importanti critici, come Federico Zeri, Giulio Carlo Argan, Cesare Brandi ed altri, la crema dell'establishment accademico. Ora siamo, forze, alla recidiva su Modigliani, che in francese vuol dire maledetto, giacché un critico d'Oltralpe avvalora i dubbi di Pepi, il quale era già stato, nella beffa precedente, fervido negatore della prima ora dell'autenticità delle teste. Intanto Palazzo Ducale e Rudy Chiappini, il curatore della mostra, di gran successo peraltro, affilano le armi legali. Il Museo Fattori di Livorno, che ha prestato tre modi autentici a Genova, chiede, per bocca del sindaco, che le sue opere originali non siano affiancate a dei falsi, mentre la parola passa a carabinieri e periti. E tutto questo, in un tempo in cui realtà e finzione giocano a nascondino sempre di più e in cui la rappresentazione diventa quasi più importante del reale, è un magnifico e efficace segno della contemporaneità, dalle fake news alla fake art. È tutto, il Tg2 torna domattina.